Buongiorno a tutti, ho deciso di creare questo mini distributore di erba dato che quello più grande non entrava al di sotto dei pali della catenaria del diorama che sto costruendo. Per quanto riguarda la costruzione, il materiale che ho utilizzato è stata una retina di un colino prelevato gentilmente da un set infusore di mia moglie, un barattolino usato dei sali decalcificanti, un generatore di ioni negativi e poi un paio di coccodrilli con fili per alimentazione a 12 volts, un coccodrillo verde con un aghetto da inserire e appoggiare sul piano dove va inserita l'erba, un coccodrillo bianco da collegare invece al colino dal lato dell'alta tensione. E questo è lo schema di connessione per il dispositivo. Dimenticavo, ho anche utilizzato della colla a caldo per fissare la retina al contenitore dei sali. Qui potete vedere le varie fasi delle saldature dei fili dove abbiamo appunto il filo rosso che andrà al positivo della batteria o comunque il positivo a 12 volts, il filo nero che andrà al negativo, poi abbiamo il filo bianco che esce dal generatore di ioni che andrà collegato alla retina del colino, per comodità ho utilizzato un coccodrillo bianco e infine il coccodrillo di color verde con un aghetto che andremo a piazzare sul piano dove spargeremo il vinavil va collegato anche questo al negativo della batteria. Ed ecco come appare l'assemblaggio completo del mini distributore. Adesso effettuerò un paio di test con erba da 1,5 mm direttamente sul piano del mio diorama in costruzione. Grazie. Grazie. E questo che vedete è il risultato finale ad essiccazione avvenuta. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Alla prossima.